Ciao a tutti ragazzi Vabbè boh è tipo un piccolo vlog con Ale e Villani Salutate Ciao E mi chiami tu ecco il nome Dio santo Moro saluto anche te dai Ecco, di nuovo, bella Bella, bella Moro è Tutti che saluto a questo bella, bella Moro dovete sapere che lui è già nanna Sì vabbè lui è nanna sempre È un po' divertito È nel suo Moro Sì ma c'è stato un po' pro, intelligente, sveglia tutte le cose Vabbè comunque Vabbè comincia con il tuo video tutorial No no boh no non voglio fare il tutorial Facciamo una cosa così C'è 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 Die vabbè innanzitutto ringrazio i miei fan iscritti più che fan delle 380 visualizzazioni grazie grazie e poi aspetta Moro quando vorrà aprirà un canale quando vuole quando riesce a scaricare Sony Vegas quando riesce a scaricare Sony Vegas sto provando a scaricare è tipo un mese che ci sta provando però secondo me dai meno quanto? due anni? poi dovete sapere che io oggi sono andato da Ale e abbiamo bevuto il tè e io mi stavo per strozzare è Ale Ale no è che lui è timido poveri me ne ero andato un sicuro dai si si come no non potete investire no dai veramente mi senti essere io veramente eh vabbè comunque cioè non so probabilmente tra cent'anni avvira un canale si probabilmente anzi iscrivetevi se volete farmi due risate si infatti perché i suoi video proprio cioè più che ridere non è che sarà nei suoi video sarà lui che farà ridere infatti ah grazie ah grazie ah grazie niente oh va che ti stiamo facendo pubblicità gratis eh vabbè no 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 io ne la sto facendo gratis poi voglio essere pagato anch'io voglio essere pagato vabbè non ti pago neanche neanche mod vabbè comunque cioè succederà un'altra volta magari su un server boh vediamo di fare una cosa un po' così un po' stupida tanto per passare qualche minuto con voi se non pensate ho fatto mai cose intelligenti sì sì sempre facendo stupidate il prossimo la prossimo tutorial sulle mod su sulle mod sarà della rc rc mod che aggiunge tutti le cose radiocomandate cacchiate varie però per la 1.2.5 che su come ho fatto il video stasera e boh cioè non lo so volete dire qualcosa voi moro Ale Andrea chiamaci beh io l'ho provata la prossima volta eh sì infatti chiamaci per noi la prossima volta se non ti denuncio e e comunque iscrivetevi al suo canale e iscrivetevi al suo canale grazie spero di non avere la voce da pirla va bene da dark feather è tutto ciao a tutti bella ragazzi ciao 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 ciao